Signore e signori buonasera, questa è Minecraftita, io sono Surry, ora mi trovo nella mia base però sta per iniziare una grande avventura che spero non ci vedrà morti come l'ultima avventura che abbiamo intrapreso ora non stiamo andando a cercare il dip né tutto ciò vogliamo fare una cosa, vogliamo trovare il legno di acacia che si trova nella savana non so perché nella scorsa puntata io insistevo sul deserto ma non è il deserto dove si trova il legno perché nel deserto non c'è il legno, non c'è l'acqua, vuoi far esserci la vita però è la savana e savana, come vi ho detto nell'ultimo episodio, ho usato il Biome Finder il Biome Finder, che è un sito web fighissimo, tu carichi il tuo mondo e lui ti dice dove sono i biomi quelli interessanti io ho scoperto una cosa, ma ho scoperto una cosa, ma ti fa stante quindi io non metto in dubbio che questa avventura possa durare più di un episodio che mi gasa, perché come sapete gli episodi di esplutazione sono i miei preferiti però mi gasa e mi spaventa anche perché ho un po' paura di quello che potrebbe succedere ora vi spiego perché, ma lo scopriremo stanno facendo anzi probabilmente l'avete scoperto già dalla copertina del video perché conoscendomi avevo fatto la copertina giustamente in quel posto lì però farò finta di non sapere ancora dove sto andando una cosa è sicura, ho bisogno di letto e cibo il resto non mi interessa perché posso sempre dormire dove, a seconda della situazione, cioè, amen l'importante è avere del cibo per mangiare, potersi nutrire, ripararsi dei danni e un letto per dormire, superare la notte tanto il nostro spawn lo sappiamo bene che è qui vicino, da quella parte e siamo contenti ecco, conoscendo di poi, forse davvero l'idea più importante di questa serie è stata proprio mettere il, mettere lo, cioè, mettere la base vicinissima allo spawn qualsiasi cosa succede, noi siamo molto, molto, siamo abbastanza tranquilli ora, il posto dove stiamo andando, io non so cosa ci riserva devo essere onesto perché dalla mappa, raga, sembra enorme davvero enorme non penso di aver mai trovato una roba del genere forse nella prima stagione di Minecraft Ita o nella seconda, per chi se lo ricorda c'era un qualcosa di simile però, cioè, era davvero un'eccezione mi porto dietro anche delle frecce perché non si sa mai vorremmi che non ho della... non ho della lana non ho stringhe? impossibile, sono pieno mettiamo qua c'è questo, intanto ne ho prendo un po' di stringhe e poi partiamo perché qua è lunga la strada allora, un tintinnino non ho nulla di stringhe ci facciamo il nostro lettino olè, anche del legno dovevi portarmi dietro, giustamente mi sembra un'ottima idea ecco, se sto partendo per questa avventura, tra l'altro è perché, grazie alla mappa, ho visto una cosa ed è una cosa importante per arrivare in questo posto è quasi tutto un tragitto da fare in barca sembra scontato, non lo è perché viaggiare in barca vuol dire risparmiare una marea di cibo davvero una grande quantità di cibo portiamoci dietro un po' di legno e facciamo anche un lettino è principalmente il cibo in realtà che risparmi e anche il fatto che quando è notte non ti devi preoccupare troppo ora io non so neanche quanto è lontano sto posto ma da come l'ho visto sembra davvero lontano guarda, per non saperne leggere e scrivere mi cuocio tutto il cibo che ho a disposizione perché potrebbe servirci ma il tropical fish non posso cuocerlo scusate, cosa mangio? Sashimi? beh, non male sto esagerando un po' forse prendo tutto sto cibo dietro non lo so meglio prevenire che curare olè andiamo sì, siamo carichi, let's go ecco, neanche a farlo apposta sta già diventando notte lettino alla mano anzi, dormiamo alla torre alla torre sono contento di come sta venendo fuori, eh? appena avrà il tetto sarà davvero una figata questa piccola vista del tramonto il campo di grano bello, bello mi piace va bene può avere inizio la nostra avventura e come facciamo? dobbiamo recuperare la nostra barca l'abbiamo piazzata per andare a prendere i funghi e il legno di betulla qualche episodio fa e dovrebbe essere ancora qui cioè, non mi ricordo di averla distrutta o sbaglio dovrebbe essere qui da qualche... eccola là questa barchetta, signore e signori ci porterà molto lontano ora, non vorrei aver confuso le idee non stiamo andando a cercare la savana non oggi forse domani a seconda di quanto tempo richiederà questo viaggio di oggi oggi stiamo andando ad esplodare una zona molto interessante che non so neanche se ha degli utilizzi veri e propri devo essere onesto ma da come l'ho vista sulla mappa deve essere bellissima davvero bellissima allora io ho aperto il mio sito caricato il livello del mondo ho visto questa isoletta qua che è la beach island dove abbiamo fatto le cose e ho visto che proseguendo in questa direzione verso l'oceano ma non l'oceano e basta verso il deep ocean cioè deep frozen ocean addirittura o deep cold non mi ricordo come si chiama ho visto delle cose interessanti ora di là ho riconosciuto sia la swamp che il frozen dove abbiamo preso il ghiaccio per fare la scala la spirale di là ho visto dove siamo andati uno degli ultimi episodi e ho visto che se io proseguo in questa direzione in mezzo all'oceano stiamo attenti sempre al corrente stiamo andando verso rotolando verso nord in questo caso da questa parte a un certo determinato momento dovrei vedere un'isoletta ed è un'isoletta interessante è una cosa rara soprattutto è una cosa che non si trova spesso in minecraft e il sito dice che io ce l'ho qua vicino quindi noi continuiamo a esplorare in mezzo a questo ora non siamo ancora nell'oceano vedi che il fondale si vede tutto vogliamo piazzare una torcia qui per il meme anzi altro che torcia piazziamo la lanterna ok così non ci può sponere nessuno e sappiamo che ci siamo stati ci siamo passati nel caso dovessimo perderci in mezzo all'oceano almeno abbiamo un piccolo faro una luce di speranza non so come chiamarlo ecco ora io direi che se siete d'accordo possiamo dire che siamo nel deep ocean avrei anche mezza paura di trovarmi un kraken o qualcosa del genere e per fortuna sembrerebbe non essere questo il caso eccola eccola signori abbiamo trovato l'isola questa è la mushroom island ed è bella grande ma io posso assicurarvi che non è questa che stiamo cercando io vi giuro quando ho visto la mappa non ci credevo uno perché la mushroom island è molto rara e due perché questo è solo all'inizio ragazzi questa mushroom island non è la mushroom island che noi stiamo andando a esplorare ora la mushroom island come funziona praticamente questi sono mushroom land qua possono crescere solamente mucche quelle là belle tra l'altro che ora prenderemo e porteremo a casa ora non ora ora però le prenderemo e le porteremo a casa ma non solo non possono spawnare mob qui se non ricordo male potrei sbagliarmi ah no aspetta se metti le torce possono spawnare solamente le mucche tipo deve essere illuminato comunque e voi direte cacchio enorme questa isola no raga non avete capito cioè questo è nulla in teoria ora non vorrei che fosse più grande di quel che mi ricordo aspetta fammi aprire il sito ce l'ho ancora aperto si ah no no mi sa che è questo eh no mi sa che è questa perché è enorme ora in teoria giro a destra se prosegue ancora per tipo 100 blocchi è un'isola e no eh si raga mi sa che è questa pensavo di aver trovato un'isoletta prima ma invece no ecco ho iniziato a piovere fantastico raga è un è un continente è come aver trovato l'Australia niente c'è questo deep ocean che è enorme ma davvero enorme e in mezzo vabbè di là abbiamo altri ghiacciai e cose enormi abbiamo questa non è neanche un'isola raga è proprio un continente è l'Australia è l'Australia piena di funghi però uh bello quello lì ora andiamo a vederlo cioè enorme non ci serve a nulla praticamente perché non non penso di avere un utilizzo per tutti questi funghi la cosa bellissima è che possono portarci a casa le muccozze quelle belle quelle lì colorate andiamo a vedere da vicino ora il volo guarda quanto è grande sta isola per quello dicevo un continente non ci credevo quando ero vista sulla mappa ho detto magari un bug non è davvero così grande perché cioè voglio dire non l'ho mai vista una così grande mai e sono anni che gioco a Minecraft è vero che alla fine una decina di mondi avrò giocato più vabbè più quelli online cioè comunque avrò giocato un po' di mondi senza un po' di dubbio ma non ne ho mai vista una di queste così grande guardate abbiamo mucche a perdita d'occhio ciao bro cioè a parte che questa è la mucca infettata dal cordyceps di The Last of Us palese cioè diciamocelo è esattamente lei solo che non è assassina per il momento ma manca poco mi giro un secondo e trovo tutte le mucche impazzite che mi colorano contro e cercano di mangiarmi non so se è probabile però sarebbe molto bello qua abbiamo un lago di lava qui possono crescere solamente cioè neanche crescono solamente funghi poi faccio crescere anche l'alberello se piazzi la terra però questo è micelio giusto missilium come si chiama dead bush no missilium esatto e qui grandi fungoni ed è si perde cioè è enorme guarda quanto è grossa sta roba è un continente quale cavernone è tutto che ficata pazzesca quello cos'è ci sono anche le strutture ma che cosa dici mai nella vita un drowned un drowned bro vabbè che sta piovendo ma che ci fai qua bro tu dovresti stare nell'oceano ma siamo i broschi dovresti stare lì tu esatto che ci fai qua ma che mondo incredibile raga qui devo avere un po' paura allora vediamo cosa c'è nella cesta non vorrei fosse una cesta trappola che qua mai dire mai eh ok perchè non si apre oddio perchè non si apriva carbone la cosa più bella che potevi darmi è una buried 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 treasure map non riesco a parlare inglese incredibile si che questo canale all'inizio era in inglese vediamo che mappa è eeeh vuoi dimmi che c'è un tesoro qui andiamo a cercarlo subito bro ma tu ma da dove cacchio uscite voi scusa siamo su un'isola come cacchio ecco torna dove dove devi stare eeeh no aspetta questo è un blocco di sabbia non è il mio tesoro scusa ma buri treasure map e poi non credo sia qui il mio tesoro cacchio scusa come funziona deva sta roba eh ah no aspetta c'è un tastino rosso c'è il tastino rosso un bottone rosso però magari è un blocco di micelio o qualcosa del genere ah no è il magma block vuol dire che c'è qualcosa qua sotto ora magari se usciamo io non devo cliccare col destro forse non devo cliccare io col destro vuol dire che c'è un altro modo che non mi ricordo palesemente come però c'è un altro modo per ottenere eeeh le informazioni dal labori treasure map perché ora è semplicemente una mappa infatti vabbè lasciamo la ce la portiamo a casa comunque un bel un bel ricordo questa una bella mappa tutto violaceo ma vogliamo vedere se c'è qualche altra struttura qua al giro sono curioso perché ce n'era una potrebbe tranquillamente essercene un'altra tanto noi sappiamo che la nostra barca più o meno ma buongiorno ma bro ma cosa sta succedendo in questo episodio sea pickle light blue dye moss block interessante non ce l'abbiamo già pod vabbè niente di interessante mi spiace cioè è tipo un mondo magico questo la valle incantata tutte queste mucche colorate cioè wow wow ma vediamo se tengo qualche altra struttura quella poteva essere forse l'eccezione laghi di lava non ci interessano vorrei rendere chiara questa cosa più che altro voglio anche vedere dov'è la fine di questa isola perché va bene tutto però è davvero un continente è enorme guarda cioè vado oltre i chunk caricati da quanto è grande ah e forse è quella l'altra piccoletta no è comunque è un proseguo un proseguimento proseguio vabbè lasciamo stare ma a parte quanti monumenti ci sono io non ho parole sta diventando notte io non vedo altre strutture vedo una caverna all'inunternanza ma la caverna non ci interessa mi piaceva l'idea di trovare un'altra strutturina con qualche cesta ma devo devo abbandonare l'idea direi che possiamo dormire ho respawnato ho resettato il respawn point ma non ci interessa per il momento torniamo verso la barchetta e andiamo a vedere cosa c'è nel relitto che già mi sembra un'ottima cosa come riportare le mucchette a casa io l'idea ce l'ho cioè la infilo ne infilo una alla volta dentro una barca e me la porto dietro con una lead dovrebbe essere super semplice anzi se troviamo ancora il broski che io poi l'ho ignorato perché sono stato gentile ma se troviamo il villager viandante quei lama dove era ora io ho dormito non dovrebbe essere scomparso bella sta caverna ma che figata coi fungoni bello bello dicevo ora io l'ho l'ho risparmiato per gesto di mag con magnonomosità ma oddio ma non so parlare oggi che cacchio quando uno è magnanimo come si dice magnio magnin lasciamo stare per favore grazie quando uno è magnanimo come si dice fammi cercare su google sto diventando scemo magnanimosità magn non so neanche magnanimità ma chi cazzo lo sapeva vabbè scemo sta magnanimità penso di averlo mai detto in vita mia magnanimità bro mi spiace però devi morire e devi darmi le tue lead cazzo fai sputi ho maledetto io voglio solo le lead vattene via non ma guarda come sputano però la mina fa un po' schifo eh maledetti ma poi una certa dovremmo anche esplorare uno di questi monumenti mi fanno sempre un po' paura perché con il guardian è un secondo a morire se non hai le cose giuste mi spaventano sempre ste robe non dovrebbero credo di no però mi spaventano allora ma noi ci ricordiamo dove era la nostra barca dovrebbe essere qui lato ghiaccio l'avevo messa qui vicino da qualche parte vabbè scorriamo sulla costa con grande magnanimità a questo punto abbiamo imparato una parola nuova usiamola allora io direi facciamo un giretto a relitto perché mi sembra interessante e poi capiamo il da farsi non vorrei dir cavolate ma forse forse la savana è da queste ma che bello è raga ma che figata cioè è bellissimo con la lava sotto magma cube magma block come cacchio si chiama incredibile cioè la generazione dei mondi e poi mi avete detto che con la 1.20 in teoria sarà ancora di più ancora più bello quindi non voglio neanche prolungarmi e andare troppo oltre con l'esplorazione però cioè ma di che cazzo stiamo parlando ma che figata che figata allora lasciamo qui la nostra parchetta tanto perché possiamo dormire mi sento abbastanza sicuro questa è proprio questa rovesciata cos'è il titanic bro abbiamo beccato il titanic fantastico che dire folettine e folettine facciamo un giro così è proprio bello allora c'è una cesta qui riesco a salire sarebbe fantastico la apriamo anche qui grazie abbiamo moss block direi che ne abbiamo già abbastanza le carote le patate de non mi interessa granché devo essere onesto cerchiamo l'altra cesta che ci sono sempre altre ceste che non so dove sono di preciso ma ci sono eccola battiamo questo degno ma questo è dark oak mmm e questo è acacia? no jungle planks cazzo bello jungle planks però non mi apre la cesta non capisco perché ok ecco ora calma un po' libro carta empty map vabbè ce la prendiamo e per for fun trasformiamo anche questa che è bella con il relitto e ce la teniamo da parte ma questa qui io come ah ok non dovevo cliccare col destro sono stato stupido succede io come ci arrivo lì devo andare verso sud tra l'altro cioè ora sono quindi è dopo la mia base sto robo teniamocela da parte perché potrebbe essere una bella puntata anche quella della ricerca di un tesoro ora qui sicuramente ce ne sarà qualche altra struttura dai che non devo manco dirtelo che c'è per forza qui qualche altra struttura facciamo un giro giro tondo accanto a questi ghiacciai io se il mio senso di orientamento non mi tradisce da questa parte più o meno dovrei vedere in un determinato momento non so quanto lontano è la savana però vediamo sono curioso di sapere se questo bioma ghiaccioso ghiacciato ha qualcosa da offrirci oltre al freddo e ai polar bear ecco se troviamo anche delle no qua le capre non le troviamo mai vero no mi sento ok ho visto il verde mmm un po' troppo verde piacerebbe se fosse un po' più colora un po' più colora caccia ecco un po' il color savana lì e per me siamo vicini comunque siamo vicini più o meno che blocco è quello? vabbè qua non ci abbiamo nient'altro? nessun altro relitto? igloo? perché mi hai detto ci sono anche gli igloo ma io non ho mai neanche uno l'ho incontrato mmm non mi dà l'idea di essere una savana questa mi sta sorgendo il dubbio qua c'è scritto che c'era la savana c'è scritto dalla mappa c'era il colore ed è il colore savana mmm qui non vedo molto altro a parte polar bear vari che spero non mi vogliono uccidere ma finché non ci sono le cucciole in teoria no dei ponti fatti di neve e ghiaccio molto interessanti ma non utili ok no neanche questa è savana bro di nuovo spruce ma che generazione incredibili stanno uscendo da qui raga ma è una matonna ma che cazzo è babbo natale ha generato questo mondo ma è bellissimo le montagne a strapiombo wow wow che cazzo sono i fiori norvegesi questi sono ma è incredibile qua sarebbe costruirci tante piccole casettine fare tipo una roba sul perché siamo abbastanza lontani da casa però mamma mia se sarebbe bello lì fai la casa di tony stark incredibile incredibile allora facciamo un giretto qui eh al volo ma questi perché cosa c'è qui che mi stai nascondendo c'è qualcosa qui sotto no semplicemente della oh questa la prendo molto volentieri mi serve sempre la mos moscobus è vero che posso craftarla anche di qua bello bello ma dove cacchio sono fin che bioma è questo old growth pine tiger ma che cazzo vuol dire ma non pensavo neanche esistesse un bioma del genere e ora con uno appuntamenti aggiungono altri non so quanti biomi in teoria cioè boh quella sembra una ninfea gigante oh madonna la cascata della montagna raga ma è bellissimo questo mondo incredibile e non sarebbe mai trovare un bel villaggetto qui eh bel villaggetto random con dentro tanti diamanti e smeraldi da riportare a casa poi è vero che quando trovo i diamanti e smeraldi in qualche modo muoio sempre e ora siamo un po' lontanini però gamine cioè vuoi dirmi che qui in mezzo non c'è manco un villaggio capito old pine growth però è anche un po' una scammata va bene va bene ma non dobbiamo non dobbiamo lasciarci prendere dall'entusiasmo noi siamo qui per fare una cosa e una soltanto uno vabbè vede le mucche che comunque è stato bello e ora organizzeremo una spedizione per riportarla a casa ma te la lasciamo io sono qui per il legno da caccia tutto sto casino è per finire la torre perché io non posso finire altrimenti capito è un casino allora ecco ora come minimo ho perso anche la barca dove l'ho messa la barca dammi il carbone grazie bello bello il carbone mi piace altro carbone quanto carbone bello bello poi piccoli con fortuna 3 mamma mia peggio mi sento dormiamo dormiamo e mi sa in realtà siamo tra 23 minuti ho un appuntamento e devo ancora docciarmi eh mi sono lasciato prendere un attimino la mano da questa esplorazione facciamo così signore e signori per il momento è tutto noi ci vediamo domani alle 7 dove spero di trovare questa maledettissima savana figa abbiamo trovato la causa dello scioglimento no non lo scioglimento no abbiamo trovato la causa della morte del Titanic praticamente dell'affondamento abbiamo trovato il continente dei funghi letteralmente e abbiamo qua trovato la savana maledetta vabbè per questo video è tutto noi ci vediamo domani alle 7 con la prossima puntata di Minecraft Ita ciao a te lo trovo a tutti